Onorevoli colleghi, il testo approvato dalla maggioranza nelle commissioni finanza e lavoro non può ritenersi in alcun modo soddisfacente. Il provvedimento, così come formulato, risulta caratterizzato da una logica emergenziale e privo di una visione strategica e programmatica, incapace di fornire ai cittadini prospettive di medio e lungo periodo, nel segno di una complessiva incertezza sugli interventi e sulle coperture. Le premesse coraggiose formulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel suo discorso di insediamento si sono rivelate puro fumo negli occhi, considerate le misure contenute nel presente decreto legge. Svanisce la speranza di vedere finalmente realizzato un sostegno concreto a imprese e lavoratori. Non a caso le imprese sono totalmente escluse da questo decreto. Ma dopo, Presidente, approfondirò la questione. Sono interventi pagliativi che tamponano situazioni di impellenza, rinviando semplicemente il problema. Nessuna azione strutturale volta ad alleggerire il carico fiscale su cittadine, imprese e lavoratori. Ma il tempo stringe la ripresa economica stenta a ripartire. Da tre anni il saldo tra natalità e mortalità dell'azienda italiana è sempre negativo. Gli ultimi dati registrano che nel primo trimestre dell'anno in corso la crisi ha fatto chiudere 31.351 imprese, il saldo peggiore dal 2004. Per questo, cari colleghi, riteniamo non ci fosse bisogno di un decreto interlocutorio e invece dovessimo puntare a un vero decreto del coraggio, invece che del fare, sarebbe meglio un decreto del coraggio, visto che del fare nell'ultimo decreto ce n'è molto poco, che andasse ad intervenire realmente sulle esigenze di cittadine e imprese. Sul Limo, ad esempio, il provvedimento si limita a prevedere una sospensione del versamento della prima rata 2013 fino al 16 settembre prossimo, nell'emore di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, sulla base di tali principi esplicati. Ma la sospensione non riguarda tutti gli immobili, bensì solo quelli adibiti ad abitazione principale, i terreni fabbricati agricoli, gli immobili delle cooperative edilizie e le cosiddette case popolari. La Lega aveva presentato una serie di proposte di modifica di assoluto buonsenso, prive di demagogia e volte ad un sostanziale e responsabile miglioramento del testo. Questi nostri appelli e questi nostri emendamenti sono stati totalmente inascoltati. Dispiace sentire il Presidente Capezzone che dice che sono fatte modifiche chirurgiche ed è stato lasciato spazio all'opposizione di intervenire. È stato impedito all'opposizione di intervenire sulla sostanza del provvedimento. Anzi, Presidente, le chiedo un attimo di particolare attenzione. Mi rivolgo a lei perché dal nostro punto di vista, le parlo anche in qualità di relatore di minoranza, non è possibile che sia vietato a parlamentari, dal nostro punto di vista la scusa dell'inemassibilità, di presentare emendamenti che nella sostanza modificano una parola di un testo da sospensione ad eliminazione. Sto parlando dell'Imu. I relatori si possono dire contrari nel merito. La Commissione di bilancio può dire, se lo riterrà, che non abbiamo trovato coperture adeguate, ma non si può dire che sono inammissibili. Se incominciamo con questo tipo di logica, che un parlamentare, Presidente, le chiedo di farsi portavoce anche verso la Presidente Boldrini, di questa impossibilità di intervenire da parte delle opposizioni, se questa è la logica, vuol dire che qualsiasi emendamento che non riprenda le parole testuali del testo uscito dal Governo, si potrà dichiarare inammissibile. Non possiamo accettare che un emendamento sia dichiarato inammissibile perché si passa da sospensione a eliminazione. Stavamo pienamente nel tema del decreto che stiamo trattando, siamo pienamente all'interno delle finalità che si era posto il Governo stesso emanando questo decreto. Ma non solo, Presidente, oltre a entrando in questo problema procedurale che noi riteniamo fondamentale, e ricordo che se questa, e le domando anzi, se questa sarà la prassi e diventerà la prassi all'interno di Commissione d'Aula, ma noi come gruppo della Lega Nord eravamo anche intervenuti per cercare di intervenire su quei principi esplicati all'interno del testo del decreto stesso. Intanto voglio sottolineare l'estemporaneità di un decreto dove mette dei principi che non sono deleghe che vengono date al Governo, ma dei principi. Dei principi messi in una norma e non si capisce a quale fine e con quale valore. Un atto assolutamente atipico che noi però abbiamo voluto leggere positivamente. L'abbiamo voluto leggere tanto positivamente che abbiamo presentato, e la Lega Nord ha presentato, degli emendamenti che non necessitavano di copertura perché entravano proprio in quei principi individuati dal Governo stesso. Perché in Commissione si è stato detto dai relatori ma no, dovremmo valutare la questione quando si farà la riforma fiscale. Non si possono mettere adesso dei principi. Peccato che il Governo li abbia messi proprio sulla deducibilità dell'Imu per quanto riguarda gli impianti produttivi. Noi avevamo chiesto di aggiungere anche il principio che nella riforma fiscale, e parlo anche al Governo, fosse esplicitato che veniva eliminato l'Imu sulla prima casa. Non servivano coperture, non serviva particolari, diciamo, formulazioni per rendere chiara questa volontà, serviva solo che ci fosse questa apertura di cui ha parlato il Presidente Capezzone, ma che noi non abbiamo visto, perché dalle affermazioni fatte da molti rappresentanti sia del Governo, sia dei gruppi di maggioranza, dei mezzi di informazione, si traducesse anche nella attività legislativa di questa Camera. Ebbene, i relatori di maggioranza hanno dato parere contrario a un emendamento che prevedeva l'introduzione del principio di eliminazione di Imu sulla prima casa nella futura riforma che il Governo ha promesso di mettere in atto. Non solo. Noi abbiamo cercato di intervenire a favore delle imprese, chiedendo la sospensione, che purtroppo ad oggi risulterà quasi inefficace, visto la scadenza, anche la sospensione per le attività produttive. Abbiamo chiesto la sospensione anche per tutti quei cittadini che danno in comodato gratuito a parenti di primo grado un alloggio e viene adibito ovviamente per questo parente ad abitazione principale. Nessuna risposta se non un blocco per non modificare assolutamente il testo. L'unica parte che le opposizioni con l'emendamento della Lega siamo riusciti a modificare è appunto di inserire anche i viceministri all'interno di quel blocco che è garantito dal Governo per ministri e sottosegretari. Badate bene, questo emendamento è stato accolto dopo una modifica di parere da parte dei relatori. Perché l'indicazione e la volontà di non voler ascoltare in alcun modo le opposizioni all'interno dei lavori delle commissioni era talmente elevato che nemmeno questo emendamento di buonsenso oltretutto avvalorato da tutte le relazioni tecnici pervenuteci a questo emendamento era stato dato parere contrario dai relatori di maggioranza. E quindi noi ci auguriamo e mi auguro in qualità di relatore di minoranza che gli emendamenti di tutte le opposizioni non solamente del gruppo a cui appartengo della Lega Nord nell'Aula verranno valutati con la dovuta attenzione e con la consapevolezza che anche i parlamentari di opposizione sono qui per rendere un buon servizio ai cittadini di questo Paese. Non sono messi diciamo in quest'Aula per mettere in difficoltà la maggioranza sempre e comunque. Sono qui per portare il loro contributo con i loro emendamenti e magari migliorare un testo e fare uscire da quest'Aula un testo più utile ad aziende cittadini che sono costretti a pagare un salasso voluto in questo caso ovviamente principalmente per quanto riguarda l'Imu dal governo precedente Monti che guarda caso aveva come diciamo appoggio nella sostanza la maggioranza che adesso sta appoggiando questo medesimo governo. Noi ci auguriamo quindi e chiudo Presidente che questa apertura venga nel merito ma le chiedo a lei in qualità di Presidente anche nel metodo non vorremmo trovarci nella stessa situazione trovate in Commissione e penso che sia un atto di coraggio trasparenza e oggettività anche saper dire che le Commissioni hanno sbagliato nel vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza questo anche per tutelare le opposizioni Presidente perché io voglio ricordare i colleghi che sono in quest'Aula che uno non è maggioranza per sempre e uno non è opposizione per sempre e se andiamo quindi a modificare o a fare regole così stringenti prima o poi tutti passano per quella ruota e se non si capisce l'importanza di tutelare le opposizioni vuol dire che non si capisce l'importanza di questo stesso Parlamento grazie grazie a tutti grazie a tutti